Nel 2019 abbiamo assistito a una metamorfosi del sindaco, già iniziata nel 2018, quella venuta da un commissario da Roma, che si è conclusa poi nel 2019 con la vittoria della regione Umbria, dove è stato nominato assessore una persona proveniente da Lombardia, il quale non ho nulla incontrato contro questa persona che poi neanche conosco, però io credo che avevamo delle figure anche qui nella nostra regione che potevano andare a ricoprire quel ruolo. Non so qual è lo scopo e l'obiettivo della Lega, se colonizzare l'Umbria oppure lasciare agli Umbri la possibilità di gestire la propria regione. Indubbiamente quello che va fatto, a prescindere dagli errori che uno può fare, come io personalmente ho fatto, ma che ho creduto in determinate situazioni e in un cambiamento, vanno portati avanti le battaglie per cui uno crede e soprattutto cercare di dare alla regione Umbria, agli Umbri, la speranza del cambiamento, così come più volte ci dato e soprattutto di dare la possibilità ai famiglie più disagiate un sorriso, un sorriso che è creare posti di lavoro, risollevare l'economia della regione, perché noi abbiamo circa 45.800 famiglie povere in tutta la regione. dobbiamo mettere in atto politica e si concentrano a risollevare questa fascia sociale. Il vento del cambiamento tanto diffuso e sventolato ai quattro venti a me sinceramente non mi sembra che sia avvenuto o che stia tirando, ma speriamo, il nostro impegno è proprio cercare di portare quel vento di cambiamento dove dobbiamo soprattutto iniziare a ristrutturare sia il governo amministrativo che il governo di controllo, perché a mio avviso il governo di controllo sta dormendo un po' roba.